La ripartenza del turismo per noi è importantissima, nel senso che abbiamo visto cosa è successo nell'estate 2020, la Calabria è stata scelta dai turisti, è stata scelta perché è considerata intanto una regione quasi covid free, è stata scelta perché la qualità dei servizi in una stagione così particolare è stata veramente alta, chi è venuto, è andato via a malincuore perché ha lasciato sia le nostre bellezze naturali quanto le nostre ricchezze artistiche e ha potuto godere nei giorni in cui è rimasto in Calabria di tutta la produzione enogastronomica, olearia, i frutti. Molti mi hanno scritto per ringraziarmi dicendo grazie all'epoca ero assessore, grazie assessore per quello che ci avete dato, non mangiavo così bene da, non me la vivevo così bene da, non ho mai fatto un bagno in un mare così pulito eccetera eccetera. Certo poi ci sono le giornate strane come in tutti i luoghi del mondo, però devo dire il nostro mare, le nostre montagne, le nostre campagne e l'accoglienza di tutti gli operatori turistici fa sì che la Calabria non possa che essere la meta del prossimo turismo e del turismo dei prossimi anni in tutto il sud e in tutta l'Italia. È un incontro che abbiamo programmato di lavoro a porte chiuse dove tutto il comparto del turismo rispetto agli strumenti in passato di aiuti, oggi di investimento e di ripartenza si interroga su come affrontare questa stagione, quindi un'azione di ascolto contemporanea di tutti gli operatori del settore che abbiamo visto singolarmente sotto l'occhio d'anno e quindi abbiamo tutta una serie di programmazione, io ho già approvato una delibera di tutta una serie di investimenti per questa stagione e vogliamo confrontarci, vogliamo modificare le virgole, punte e virgole, ma prepararci a fare una ripresa dove secondo me la Calabria può e deve essere protagonista. È un'iniziativa per la ripartenza, è un'iniziativa che vede la piena sintonia fra il Dipartimento Cultura e i beni culturali, che è retto dal Vicepresidente Facente Funzioni Spirli, l'assolato al turismo e l'assolato all'agricoltura. Io credo che ci siano margini ampi di crescita e di sviluppo e ci siano anche ampi margini per nuove progettualità. Nei prossimi giorni, in interconnessione fra i due dipartimenti, agricoltura e turismo, ma coinvolgeremo anche i beni culturali, faremo la presentazione di un progetto importante, ad esempio sui sentieri aerogastronomici. Quindi una giunta che continua a lavorare per come aveva voluto il Presidente Santelli, una giunta che continua ad assicurare un governo ai calabresi.